prima di farsi poverello Francesco era un giovane ricco, era molto ricco suo padre commerciava in stoffe e le vendeva in tutto il mondo quando aveva la tua età? qui ad Assisi lo conoscevano tutti per bere la sua spavalderia la sua cupidicia! la sua cupidicia! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.